La partita tra Arezzo e Perugia sabato 14 gennaio alle ore 15 ci sarà. È quanto emerso al termine della riunione tra il club Amaranto e la questura di Arezzo. Il GOS ha dato l'ok all'amichevole. Nelle prossime 48 ore saranno decise le modalità di svolgimento, ovvero se tifosi ospiti potranno seguire il Perugia o meno al comunale. Questa mattina abbiamo avuto questa riunione preliminare. Con i dirigenti della questura del GOS è stata determinata che la partita ci sarà. I modi e i termini nelle prossime 48 ore verranno svelati. Sapremo poi come avvertire i nostri tifosi e tutti quelli che vorranno venire la partita. Intanto tiene banco il mercato che si è aperto oggi, martedì 3 gennaio, con l'Arezzo che segue con interesse Cenetti e proverà a trattenere i pezzi pregiati. Se è vicino non lo so, ancora è a Portano, quindi è a qualche chilometro di distanza. No, diciamo che c'è un interessamento, credo, di molte squadre sul giocatore, perché è un giocatore di una buona fascia e di un ottimo livello. Diciamo che noi stiamo sondando più strade. Il mercato poi è aperto oggi, quindi c'è ancora 29 giorni di tempo per capire. Diciamo che il nostro obiettivo primario è quello di tenere tutti i nostri ragazzi che fino ad oggi hanno dimostrato attaccamento alla maglia, soprattutto alcuni giocatori, sicuramente una qualità di gioco anche da categoria superiore. Il trattenerli tutti è una condizione che sulle situazioni si decide sempre in due. Diciamo che da parte della società in questo momento non c'è la volontà di mandar via nessuno. Se il giocatore, come ci hanno già dimostrato, vogliono rimanere a Arezzo, l'Arezzo non li darà sicuramente via. C'è sempre il punto di domanda davanti a un'offerta irrinunciabile. È logico che ci mettiamo a sedere e guardiamo. Al momento non stiamo nemmeno a sentire l'offerta. Sul fronte scouting non arriverà almeno fino a fine gennaio il sostituto di Vincenzo Bevo, volato nel frattempo in Cina alla corte di Fabio Cannavaro. Sul fronte societario c'è da registrare l'interessamento di alcuni imprenditori, ma di giriccioli al riguardo mette dei paletti su possibili nuovi ingressi. Come ho sempre detto, anche in questi giorni c'è un interessamento da parte di alcune persone. È logico che se pretendono di venire a Arezzo, parlo in generale, e rilevare una società allo sbando, hanno sbagliato, nel senso che ce ne sono tante, ma non è la condizione dell'Arezzo. Chi viene all'Arezzo c'è un progetto, c'è degli investimenti da fare e deve eseguire quello che è il progetto societario impostato da Ferretti.